La mia proposta di oggi sono per il maschietto piccolo, la nascita e il neonato, fino a due anni ed è un pantaloncino in cotone maiellato, quindi molto morbido e caldo, in tartan e ha un cavallo sceso e anche foderato, vedete qui il materiale giro, quindi caldo a cotone oppure anche questo che è un made in Italy, sempre un tartan, vedete, non foderato ma morbidissimo morbidissimo, cavallo sceso e asciutto nella gamba, ve lo voglio proporre in questo periodo con un maglioncino rosso, altrimenti andiamo su un tono molto raffinato e questi sono maglioncini in lana cashmere oppure questo tutto in cashmere, che ce l'abbiamo dal piccolino fino alla taglia grande 16 anni e lo proponiamo, vedete qui sopra in questa tonalità, oppure nel suo golfino, questo golfino è un materiale vegetale, che tra l'altro ha un ottimo prezzo, da mettere sempre sopra a questo tartan, che vi sta bene quindi con tutti i beige, le masse beige e grigie oppure questo maglioncino un po' più pesante, lo trovo molto molto carino, portato chiuso oppure scialtato, ci possiamo aggiungere poi un sweaty body con i vari profilini in questo color tortora, o grigio o blu, o lo accenniamo a tocco di rosso, oppure la camicentina, sempre di un brand italiano, in tela di cotone e dietro invece interamente in mattina. A completare poi queste cose, questi outfit in tartan, le tonalità, vedete in tortora, mettiamo questo micro pile, che vi fa da giubbino, oppure anche da maglioncino pesante nell'inverno e in fisica, con il cappuccio, questo vi ce l'ha disponibile fino alla 4 anni, oppure su un cappuccino, vedete sempre il tessuto vegetale, con i 4 bottoncini e un cappuccio ecologico ma estaccabile. A completare poi andiamo nel conflitto di un peccino, in questa tonalità di beige e torta, però disponibile anche in grigio o in blu. Ecco, anche qui vedete il completamento di nostre domenica indirizionale. Bene, vi aspettiamo per le nostre proposte in questo periodo bellissimo e meraviglioso verrà. Ciao, buona giornata a tutti!